Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, rallentamenti per traffico tra Calenzana e V1 Variante in direzione di Bologna, in carreggiato opposta rallentamenti sullo stesso tratto per veicolo in avaria. In scipili restano rallentamenti per lavori tra la Strassigna e Montelupo in direzione mare. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza con restringimenti per corsi alternativi sulla SP12 o per i tragitti più lunghi sull'autostrada 11. Prima di salutarci per il traffico ferroviario sulla linea Faentina, si registrano ritardi per un problema a passaggio a livello, le cui cause sono in corso di accertamento. Segnaliamo che il regionale 34 059 sta viaggiando al momento con 25 minuti di ritardo. Muoversi in Toscana Infi è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!